Buongiorno. Buongiorno, sono Beatrice Rebecchi, insegno lettere all'Iceo Scientifico Scienze Applicate Agostino Berenini. Siamo qui dunque per commemorare il giorno del ricordo, i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. Avvenuto in due riprese nel 1943 e nel 1945. Dunque sorge spontaneo quasi chiedersi come mai lo Stato italiano abbia voluto solennemente onorare con un provvedimento legislativo del marzo 2004 le drammatiche vicende legate a questi temi, istituendo il giorno del ricordo che appunto si celebra il 10 febbraio. Perché tanta distanza? La questione è complessa e anche spinosa. Cercherò di essere sintetica e chiara per quanto possibile. Innanzitutto perché il 10 febbraio? Perché in questo stesso giorno, nel 1947, conclusa l'altrettanto drammatica vicenda della Seconda Guerra Mondiale, venivano firmati i trattati di Parigi. Con questi trattati alla Jugoslavia sono state assegnate l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara e Provincia, la maggior parte della Venezia Giulia che, considerazione non da poco, dal 1920 facevano parte dell'Italia. Quindi già qui si delinea il problema. Con questo termine piuttosto duro sentiremo durante le letture degli studenti che si è cercato di cambiare, condolina, il termine, ma non ci si è riusciti. Si indicavano questi inghiottitoi naturali tipici del carso, delle aree carsiche, che vennero proprio utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale e anche nel dopoguerra per liberarsi dei caduti, ma dei caduti quelli che noi immaginiamo, cioè gli scontri, i tapratigiani, i nazifascisti, eccetera. Ma anche per occultare tutte queste vittime di una violenza di massa che, come dicevo prima, è avvenuta nell'autunno del 43 e nella primavera del 45, da parte del nascituro, movimento di liberazione sloveno e croato, e anche delle strutture del nuovo Stato jugoslavo volute da Tito. Allora, è vero, sono state buttate in queste cave le vittime delle fucilazioni, ma non solo in queste cave, perché dobbiamo ricordare per esempio le cave di Banxite, non solo nelle foibe, ma le cave di Banxite dell'Istria, il pozzo famoso della miniera di Basovizza, ma sappiamo bene che in queste foibe sono state gettate anche persone ancora vive, come appunto ancora una volta sentiremo dalle letture degli studenti, perché venivano allineati sull'orlo della foibe e quindi legati tra loro con un filo di ferro e chi veniva scolpito dalla scarica trascinava con sé tutti gli altri. Allora, famosa purtroppo la foibe dei Colombi di Vinesinistria, che è attuale Repubblica Croata, sono stati recuperati al tempo circa 84 corpi e poi il pozzo di Basovizza vicino a Trieste, sappiamo che è diventato monumento nazionale. Lì non si sa quante persone, perché immaginiamo lo Stato. Però buona parte degli scomparsi non sono stati precipitati nelle foibe, ma soprattutto sono morti anche nelle carceri, nei campi di concentramento jugoslavi. Quindi per comprendere meglio, ripeto, questa spinosa questione e le dimensioni che ha avuto e il significato di queste violenze di massa è meglio, forse, almeno l'ultima storiografia, dice che è meglio usare il termine stragi jugoslave. All'interno delle stragi jugoslave rientra l'infoibamento. Le dimensioni parlano di 600-700 vittime del 43 in Istria, ma 10.000 arrestati, quasi tutti italiani ma non tutti, alcune migliaia non sono tornati e poi comunque nel 45 a Trieste e a Gorizia e Fiume, epicentro delle violenze, sono state calcolate attorno alle 4-5.000 vittime, aggiunte ai caduti che si ebbero nella lotta antipartigiana. Cercherò quindi velocemente, il più possibile perché, ripeto, chiedo Venia, ma è una questione molto spinosa. Allora, dopo l'8 settembre del 43, crollate le strutture del nostro Stato, dello Stato italiano, sappiamo che i tedeschi hanno occupato Trieste, Pola, Fiume, ma all'interno, nelle zone più, vogliamo dire, anche in regresso rispetto alla storia nell'interno rurale dell'Istria, il potere venne assunto appunto dal movimento di liberazione jugoslavo. Quindi immaginiamo la confusione, i contadini croati insorsero e ovunque vennero instaurati insieme alle formazioni partigiane croate questi cosiddetti poteri popolari e cominciavano subito gli arresti, tutti quanti in modo indiscriminato perché, e va bene, squadristi e gerarchi locali, ma segretari, guardie, carabinieri, messi comunali, esattori delle tasse, era proprio una volontà molto diffusa di spazzare via chiunque potesse anche soltanto ricordare l'amministrazione italiana. Però in questa insurrezione, che evidentemente aveva connotati politici ed etnici, si saldavano anche quelli sociali, perché? L'odio di classe, se vogliamo, perché i coloni e i mezziadi croati avevano molto odio, antagonismo nei confronti dei proprietari italiani e quindi molti dirigenti, anche impiegati, furono naturalmente vittime di questo odio indiscriminato. E il campo delle violenze poi si allarga, pensate perfino alle ostetriche, in alcune righe del testo che leggeranno gli studenti, appunto un ostetrica dice ma io che colpa ne ho se il bambino è nato morto, io ho fatto di tutto. Quindi è una rivolta contadina, magari giusta nelle sue prerogative, ma selvaggia che mette insieme rancori etnici, interessi, rancori familiari e diciamo sono stati, ecco perché si trovano anche pochi documenti, sono stati distrutti i catasti, sono avvenute purtroppo violenze sessuali, sono avvenuti linciaggi e quindi una violenza programmata, perché sono state trovate alcune fonti croate, quindi nel momento in cui ci sono le fonti, che confermano come il compito, tra i compiti prioritari affidati ai poteri popolari in Istria, ci fosse quello, proprio cito, di ripulire il territorio dai cosiddetti nemici del popolo. Allora, nemici del popolo è un termine estremamente, una formula estremamente indeterminata che praticamente voleva dire tutti coloro che non collaboravano attivamente con il movimento di liberazione. Cerco di arrivare, la seconda ondata invece come abbiamo detto nel maggio 1945, vede le truppe ugoslave arrivare nella Venezia Giulia e perché appena terminati i combattimenti militari della Repubblica Sociale Italiana, caduti i prigionieri, furono passati per le armi, ma anche quelli tedeschi. E moltissimi furono avviati i campi di prigionia, si ricorda spesso il famigerato campo di Borovnica, fame, violenze, malattie. Contemporaneamente a questo le autorità iugoslave hanno dato vita a un'ondata di arresti che immaginate, insomma, come dovessero sentirsi i nostri connazionali, cioè la popolazione italiana. A Triesti, a Gorizia. Allora, moltissimi sono stati eliminati subito, altri deportati e quindi moltissimi perirono poi nella prigionia. Ma oltre ai membri dell'apparato repressivo nazifascista e anche dei fascisti giuliani, furono anche i collaborazionisti, i partigiani italiani. Allora, uno si può chiedere ma come i partigiani italiani, può essere un paradosso? No, perché moltissimi non accettavano l'egemonia, ovviamente, jugoslava, ma anche accaddero in queste rettate e morirono molti che non avevano particolari opinioni politiche, ma che chiaramente erano filo italiani. Allora sappiamo, abbiamo visto in documentari, film, che molti italiani fuggirono dalle zone occupate dagli jugoslavi, ma questi profughi, una parola che purtroppo pronunciamo e sentiamo tutti i giorni, si rifugiò un po' in tutta Italia. Altro paradosso, l'accoglienza a questi connazionali fu fredda, anzi oserei dire ostile. E vado a concludere. Perché le interpretazioni storiografiche sono state tarde, sono state tarde per i motivi che forse sono riuscita un pochino a spiegare. Allora, l'interesse storiografico è stato un po' limitato, essenzialmente per due motivi. In primo luogo, la conflittualità tra l'Italia e Jugoslavia poi negli anni Sessanta era finita e non si riteneva opportuno andare a scoperchiare e quindi si preferiva non ricordare. Poi, in questa ultima parte del mio intervento, cercherò di essere appunto il più equilibrata possibile. Allora, è stata operata una rimozione anche da parte della storiografia di sinistra, in quanto dobbiamo ricordare che i comunisti italiani hanno offerto sostegno nel 1945, italiani e giuliani, all'amministrazione jugoslava, che era la responsabile degli eccidi che abbiamo detto. E poi il PC non fu tanto chiaro sulla questione di Trieste, insomma c'era una diffusa ammirazione per il modello jugoslavo, vabbè, di Tito. Poi però si sono succedute diverse ipotesi interpretative, alcune per esempio di tipo negazionista, vabbè, di parte jugoslava, ma anche quelle tesi che hanno sostenuto il genocidio nazionale degli italiani. Ma non si è mai dimostrato, non si è mai riusciti, giustamente come dicevo prima, sono state eliminate molte fonti, bruciati i catasti, bruciati i documenti, però non si è mai dimostrato, dimostrata la strumentalità diretta delle stragi, cioè che ci fosse veramente un disegno preventivo di pulizia etnica. E però negli anni 70 del 900, del nostro secolo breve, come dice Hobbon, insomma si è cominciato a vedere che tutta questa lunghissima serie di oppressioni e di violenze, sia del 43 e del 45, poteva essere ricondotta alla politica snazionalizzatrice del fascismo nei confronti degli sloveni e dei coati. Poi sappiamo che l'Italia ha anche aggredito la Jugoslavia e poi che i nazi fascisti hanno represso il movimento partigiano jugoslavo. Quindi queste reazioni, dicono questi studi più recenti, possono essere anche considerate reazioni spontanee, no? Come una specie di resa dei conti, resa dei conti ovviamente brutale e indiscriminata, l'abbiamo già detto, ma le popolazioni erano veramente esasperate da anni di persecuzioni varie. Quindi la prima storigizzazione ha visto anche un po' di responsabilità del fascismo in questo. Però c'è una terza forse e ultima, e finisco, possibilità che è emersa dagli ultimi studi. Diciamo che le autorità jugoslave hanno quasi sicuramente programmato, non tanto perché fossero dei barbari che volevano sterminare, anche se l'hanno fatto, ma perché pare abbiano così messo in campo una programmata, ripeto, e ponderata strategia di annichilimento del dissenso, di annichilimenti del dissenso nella storia. Ne abbiamo visti tanti. Alla fine degli anni Ottanta la storiografia ha cominciato a parlare di questo, di questa epurazione preventiva e quindi le violenze del 43 e del 45 sono da riportare al più generale processo di presa di potere in Jugoslavia di quel movimento rivoluzionario a guida comunista, quella guerra di ribalzione ma anche civile che doveva eliminare fisicamente gli avversari. Quindi un progetto che è nazionale è ideologico perché sì, era basato sulla lotta di classe rivoluzionare ma anche sull'annessione ricordiamolo, della Venezia Giulia alla Jugoslavia. Vi ringrazio, spero di essere stata insomma il più chiara possibile. Grazie. Buonasera, io sono il professor Zalaffi e ho il compito, proseguendo sulla falsa rega di quanto ha fatto la collega, la professoressa Rebecchi, di introdurre il libro. A tal proposito devo ringraziare l'assessore, la professoressa Barigi per l'invito e anche per l'opportunità che mi ha dato di riconoscere una nuova lettura, aggiungere una nuova lettura di interpretazione ai fatti storici che riguardano la fine della seconda guerra mondiale nella zona istriana. Attraverso questo testo che si presenta con una confezione grafica molto semplice, apparentemente semplice e così mi è stato presentato. In realtà è un libro che dà diversi spunti interpretativi. Io lo introdurrò e poi la mia collega continuerà tirando le conclusioni. L'autrice, che è Silvia di Prà, è una donna nata a Pontremoli nel 1977, insegnante nelle scuole serali di Roma e autrice di diversi testi, l'ultimo dei quali, appunto, edito da La Terza, dà un titolo ammiccante, senza salutare nessuno, Un ritorno in Istria. E anche questo potrebbe invitare a una facile lettura. Ripeto, invece il testo nasconde spunti interessanti e particolari perché l'autrice ripercorre la sua esistenza, il suo viaggio, un viaggio alla conoscenza di sé e della sua famiglia. È un ritorno alle origini, un ritorno alla ricerca di un'identità della nonna paterna, che viene caratterizzata da un soprannome che lei stessa ha dato in un'intervista, viene caratterizzata con un aggettivo toscano, Fumina, una donna alle quale non era facile porre delle domande e che tendeva a non rispondere e a nascondersi in salotto guardando le puntate dell'Ispettore Derrick. L'Ispettore Derrick, come altri riferimenti che fa al mondo degli anni Ottanta, sempre per dare un'idea di leggerezza a un testo, viene citato Noodles, diceva una volta in America, Sergio Leone, il gelato con le due palline che lei mangiava frequentemente, tutta una serie di riferimenti che vogliono nascondere invece un viaggio profondo interiore di questa autrice, di questa ragazza, perché poi comincia in realtà da bambina quando nel 1988 si recca con il padre per la prima volta in Istria, un padre che lei stessa definisce con il suo modo tipico di caratterizzarsi. Io sono comunista e con il padre fa questo viaggio alla ricerca poi di sé, un viaggio che farà altre, diverse altre volte nel corso della sua esistenza, appunto la ricerca della conoscenza della nonna per capire meglio cosa c'era dietro a questo muro, un muro che poi riprende nel titolo del libro perché senza salutare nessuno è appunto la risposta che dà la nonna alla nipote e al figlio nel momento in cui le chiedono se li vuole accompagnare nel primo viaggio di ritorno a casa. Ripeto, un viaggio di riscoperta di sé che cerca di scoperchiare poi una ferita in un territorio che è lontano ma nello stesso tempo estremamente vicino perché, ripeto, ne porta dentro l'anima alcuni segni, alcune caratterizzazioni e è un viaggio che gradualmente la porterà a scoprire alcuni elementi della sua vita che le erano ignoti, porterà a far riaffiorare attraverso la lettura di questo testo che, ripeto, cita in modo più o meno specifico alcuni passaggi storici significativi e dà per scontato che siano conosciuti dal lettore, come la crisi del sistema liberale giolettiano, piuttosto che alcuni momenti fondamentali della storia della seconda guerra mondiale per quanto riguarda l'Italia, i fatti immediatamente successivi, ma che tratta anche alcuni temi di cui in Italia si parla relativamente poco, come dell'episodio della miniera nella città bianca che viene legata a un fatto drammatico che porta alla morte di centinaia di persone, proprio avvenuta nel febbraio del 1940, che non è una data casuale, ma è il momento nel quale viene chiesto alla miniera una eccessiva produzione necessaria per l'incremento della capacità bellica italiana in previsione di un imminente ingresso in guerra. Quindi l'autrice mescola la sua ricerca di conoscere fatti legati alla sua esperienza passata, dimenticata, per conoscere meglio la nonna, per conoscere di conseguenza meglio il padre, mescola fatti storici che riguardano la storia di tutti, la storia dei grandi, Manzoni sarebbe la storia appunto dei personaggi famosi, rilevanti, che noi tutti conosciamo, la storia dei piccoli e si intrecciano in modo indissolubile in questo racconto e ne emerge un quadro veramente molto interessante, molto particolare. Quindi è una lettura che consiglio a chi ha avveduto dal punto di vista storico e non si fa, perché non era la finalità del testo, non si fa condizionare da pregiudizi, preconcetti, ideologie pregresse, ma è un testo che ci aiuta ad aggiungere una sfumatura ulteriore rispetto alle tante che già conosciamo, un altro punto di vista per arricchire appunto la nostra consapevolezza in una giornata così importante, appunto quella del 10 febbraio che anche quest'anno ripercorriamo insieme. Io mi chiamo Rossella Cappucciati e insegno all'Istituto Solari di Fidenza e mi trovo questo difficile compito di chiudere le profonde riflessioni che mi hanno precedute dai miei colleghi e che riguardano appunto un ambito complesso della storia, le cui pieghe sono molto difficili ancora oggi da indagare. Mi sento di dire che però ho una responsabilità morale fare luce su questi avvenimenti che sono sicuramente avvenimenti importanti per la nostra identità nazionale e io mi pongo anche nell'ottica anche di insegnante che è un po' in frontiera e che deve testimoniare restituendo la drammaticità giusta degli eventi ma anche la luce adeguata a quello che per tempo è stato oscurato. Per esempio nel libro a cui faceva riferimento il collega nell'ultimo capitolo c'è una bellissima metafora in questo libro che abbiamo presentato proprio perché rappresenta un tentativo con una certa distanza rispetto a altri studi precedenti e una maggior conoscenza di comprendere più a fondo gli avvenimenti di questa complessità storica e è un libro in cui la metafora delle foglie che coprono in questo viaggio parallelo che fa la protagonista alla ricerca del bisnonno che è appunto stato poi assassinato nella foiba di Vinesse insieme ad altri suoi parenti e conoscenti hanno ricoperto quasi completamente il sentiero che porta questa foiba per cui la foiba non appare e nella metafora finale sembra che anche come dicevano i miei colleghi una serie di omissioni di silenzi, di imbarazzi abbia coperto questa parte della storia e della geografia insomma geopolitica. Il tentativo oggi di ritrovarci a riflettere invece a far luce su questi eventi trovo che sia una grande opportunità sempre seguendo la linea che dà questo libro per due motivi. Uno perché conoscere meglio gli eventi pur con le antinomie politiche storiche che li accompagnano permette comunque di restituire, di onorare le vittime di qualunque violenza. La violenza rimanda solo a se stessa quindi non ha colore e è duveroso farlo soprattutto in una comunità educante che deve comunque far chiarezza anche per chi verrà dopo di noi anche affrontando lacerazioni, grumi che sono rimasti risolti. E l'altra cosa è che questo poter in qualche modo ridare significato anche al valore storico di una zona importante per l'Italia come l'Istria e anche per tutta l'Europa. Diciamo che il conoscere meglio il passato entrando in pieghe che insomma non sempre sono così esplorabili permette non tanto di ravvivare gli antichi rancori quanto di trovare nuove strade di convivenza e quindi è un'educazione importante che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi. E a proposito di questo leggeranno i ragazzi pagine molto drammatiche anche lasciando intatte perché come diceva il collega questo libro da un lato da leggerezza insomma lascia intatta la crudeltà degli eventi che non credo per forza vadano edulcorati perché credo che la crudeltà e le narrazioni dolorose, abbiamo già fatto la giornata della memoria, oggi appunto la giornata del ricordo, non debbano spaventare nella misura in cui vogliono responsabilizzare, vogliono educarci tutti quanti a una responsabilità grande che abbiamo rispetto a ciò che è accaduto e dare proprio questo messaggio contro ogni ingiustizia e quindi dare più energia a affrontare con una visione di possibilità di cambiamento verso il futuro le nuove generazioni che come si vede in questo romanzo a volte portano con sé i silenzi e i vuoti della nostra memoria storica infatti in questo romanzo c'è molta attualità nella ricerca di identità della protagonista e molti critici per esempio mi ha colpito che sottolineano l'accentuazione del quello che oggi si chiama il victim blaming, questo essere vittime tante volte, lei nel romanzo lo ripete più volte che ci sono tante sfumature in questi eventi e quindi anche l'educazione a rispettare gli altri, le loro storie, a collocarle nel giusto modo e a essere empatici, per esempio il tema grande dei profughi e il tema grande dell'identità nazionale non sono sicuramente chiusi quindi mi permetto di chiudere con sempre una citazione di questa autrice che sentirete leggere, in cui ci racconta in un momento di smarrimento conclusivo del libro che la domanda insomma esistenziale che lei si pone ogni volta è quella di voler capire come in un mondo così possano coesistere la profondità dell'amore, la generosità del coraggio ma anche una crudeltà e un male così grande, tanto che Elsa Morante di cui lei è una studiosa definirà la storia uno scandalo. Naturalmente noi come comunità educante non possiamo fermarci allo scandalo ma anche alla parte in luce, anche quando mettiamo luce su cose oscure, su avvenimenti dolorosi come oggi. Grazie. Grazie.